gentilissimi eccoci ritrovati all'appuntamento di oggi martedì 23 marzo i listini continentali sono fiacchi nel giorno della fed che si è riunita proprio nel pomeriggio e che come anticipato continuerà a sostenere l'economia fin quando necessario intanto sugli investitori pesano l'incertezza dei vaccini e i nuovi lockdown in primis quello in germania prolungato dalla merkel fino al 18 aprile il nostro fuzzi mib si avvia già sotto quota e per tutta la mattinata viaggia in calo come vediamo poi dal grafico tenta il recupero nel pomeriggio ma l'indice chiude sui 24.150 il passivo finale è comunque dello 0,60 per cento circa il dax invece riesce grazie ad uno scatto finale a riconquistare il segno più e a chiudere praticamente sui livelli di ieri in area 14.660 anche wall street si era avviata con prevalenza di vendite in questo momento gli indici di new york dow jones e nasdaq si stanno muovendo intorno almeno meno 0 e 20 per cento sul fondo del listino milanese troviamo un paio di titoli della galassia agnelli come stellantis a meno 3 34 per cento ed exor meno 2 76 il mercato automobilistico paga le parole dei dirigenti di volvo che hanno parlato di un possibile impatto negativo per via della carenza dei semiconduttori fine coben che scende nonostante le raccomandazioni di exan saipen continua a scendere oggi perde un meno 2 70 per cento non fa molto meglio il titolo unipol con un calo molto simile la regina di piazza affari è oggi amplifon grazie anche alla notizia dell'esito deludente di un farmaco contro la sordità segue un titico di utilities come it al gas era e a 2a chiudono tutte sopra al più due infine in with sale invece del più 1 e 91 per cento giornata pesante anche sui gli incroci principali valutari con la moneta unica focus sul calo del mezzo punto percentuale circa di euro dollaro che ora quota a 1 18 e 75 lievemente più marcata la flessione dell'euro yen mentre l'euro sterlina sta viaggiando per ora poco sopra alla parità ed ora con noi il trader pietro di lorenzo con la sua panoramica ai mercati salve a tutti oggi con me pietro di lorenzo trader indipendente nonché autore di sos trader oltre che degli eventi investing allora pietro la primavera si sta avvicinando almeno sul calendario come si stanno comportando i mercati lascia a te la risposta sì buongiorno grazie per l'invito come sempre sì una primavera che si avvicina sui mercati in realtà siamo entrati l'altro giorno nella fase primaverile ma noi sui mercati stiamo ancora un po sonnecchiando il classico prima primaverile che ti fa venire un po di pigrizia e c'è anche un po di pigrizia sui mercati che dopo lo strappo dell'otto marzo questa candela che ha dato poi la volatilità e la propulsione per le successive sedute stiamo un po consolidando l'indice fa un po fatica a superare la resistenza granitica in area 24 e 5 25 che per molti anni si è opposto alla salita dei prezzi e sta cercando un driver sta cercando un tema sta cercando qualche evento catalizzante in grado poi di spingere l'interesse degli operatori verso un nuovo movimento direzionale per ora i temi sono quelli lì c'è chiaramente la situazione dei dei vaccini ci sono le tensioni crescenti fra fra la russia e gli stati uniti e oggi anche un po l'europa c'è il tema dei tassi americani che conosciamo il tema nuovo potrebbe essere quello della turchia nel weekend sono stati è stato ancora una volta cambiato il presidente della banca centrale turca e la reazione dei mercati questo è un etf sulla sulla turchia è molto evidente un meno 17 circa del dell'indice turco la lira turca in ribassi a doppia cifra e questo per ora è un evento che il mercato ha un attimo snobbato ma potrebbe essere un evento catalizzante perché insomma un la lira turca essendo una valuta che comunque è talvolta presente soprattutto lato obbligazionale potrebbe dare qualche qualche grattacapo detto ciò l'indice italiano è un po come dicevo in attesa dalle variazioni e vediamo sul sul mio tabellone si vede che in questo momento nessun titolo spicca per particolari rialzi sono tutti inferiore al 2 per cento quindi c'è una sostanziale attesa il tema forte il tema prossimo potrebbe essere sul settore bancario primo poi ripartirà il risico per partito un annetto favolo operazione intesa ubi ci sono tante situazioni che potrebbero essere in divenire cominciare da popolare emilia romagna che non ha rinnovato la di e questo potrebbe essere un segno di come dire una certa discontinuità operazioni straordinarie in vista c'è bpm da che insomma è spesso associata a tante operazioni straordinarie c'è carige che prima o poi dovrebbe rientrare in quotazione c'è la questione mps con lo stato che deve liquidare la sua quota insomma occhio ai bancari perché potrebbe essere il prossimo tema in grado poi di spingere l'indice verso questo fatidico muro dei 25.000 perfetto pietro io ti ringrazio per la panoramica con te come sempre rimando l'appuntamento alla prossima settimana grazie mille buona settimana grazie per il prezioso contributo e con questa nota si chiude l'appuntamento odierno arrivederci a domani e una buona serata